Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti al burro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono burro, farina, uova, lievi di impolvere per dolci, zucchero e un po di scorza di limone. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a preriscaldare il forno a 180 gradi e rivestiamo una teglia con carta da forno che momentaneamente metteremo da parte. Iniziamo aggiungendo la farina, lo zucchero, l'uovo, il lievito in polvere, la scorza del limone, un pochino, e il burro. E amalgamiamo tutti gli ingredienti per 20 secondi. A velocità 6. Il nostro impasto è pronto. Adesso andiamo a mettere un po' di zucchero in un piattino e iniziamo a preparare i nostri biscotti. Andiamo a prelevare una parte dell'impasto e formiamo delle palline. Una volta formata la pallina andiamo a poggiarla sullo zucchero e con una forchetta andiamo a schiacciare. Avremo questo effetto nella parte bassa e questo è il nostro biscottino che andremo a infornare. I nostri biscotti sono pronti per essere infornati, ne vengono circa una sessantina. Adesso andiamo a mettere in forno a 180 gradi per 20 minuti. Biscotti al burro. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!